Una festa del Santo Patrono San Jacopo all'insegna della storia e della tradizione altopascese. Era da prima della pandemia che Altopascio non celebrava, secondo tradizione, la festa dedicata al Santo Protettore dei Pellegrini. Da sempre Altopascio, grazie alla sua collocazione, è stata proprio un punto di riferimento per pellegrini e viandanti. La festa, per la prima volta, è stata animata dalla presenza di tanti rievocatori storici che hanno messo in mostra arte e antichi mestieri di un tempo. Il tutto, soprattutto, grazie alla presenza delle contrade di San Paolino di Lucca e di altre associazioni che hanno saputo trasformare le tre piazze principali di Altopascio in una sorta di finestra del passato, con falconieri, musica, danza e cibo. Insomma, con questa bella festa, Altopascio si è ripresa il suo ruolo di ospitalità e di storia. Un grande successo per il nostro patrono, per il San Jacopo, che ha iniziato con la celebrazione della Santa Messa, la processione, e a seguire la distribuzione della pasta asciutta, una tradizione a cui siamo tornati dopo anni di assenza, anche dettata dal Covid, una rivista, rivisionata, rivisitata grazie alla misericordia di Altopascio, e poi un fantastico, bellissimo allestimento in tema medievale nelle nostre piazze del centro storico, grazie alle contrade di San Paolino. Infatti, la novità di quest'anno è il ritorno alla storia, più precisamente alla rievocazione in chiave moderna del famoso Calderon di Altopascio, per ricordare i tempi in cui chiunque transitava da queste parti trovava un piatto di minestra preparato e offerto dalla comunità e dai componenti dell'ordine del Tau. Altopascio è il paese dell'ospitalità, per cui quest'anno la misericordia, insieme all'amministrazione comunale, ha fatto questa rievocazione storica dando un piatto di pasta asciutta a tutti i pellegrini.